Amici di Lidicola del Sud, oggi vi portiamo nella facoltà di lingua perché qualche giorno fa è crollato un pezzo di controsoffitto. A denunciare la situazione sono stati i rappresentanti dell'associazione Ling. Noi abbiamo sentito la loro coordinatrice, sentite che ci ha detto. Arrivati in dipartimento ci siamo trovati davanti ad una scena poco accettabile al giorno d'oggi vista la necessità e l'esigenza espressa dal dipartimento di rientrare in presenza e quindi in un certo senso se gli spazi sono questi non c'è alcuna sicurezza nell'accessibilità degli strassi. Ci sono delle situazioni precarie anche nei servizi igienici, ovvero nei bagni e anche nelle aule. Infatti diciamo che le nostre segnalazioni sono state molte. Già a partire dall'anno scorso con l'ex direttore Campola per una rimessa a sistema degli edifici del plesso e ad oggi diciamo queste interlocuzioni continuano con l'attuale direttore Ponzio per avere diciamo degli spazi accessibili e sicuri per tutta la comunità studentasca. Voi come sempre continuate a segnalarci tutte le cose che non vanno nei vostri quartieri, nelle vostre città, ovviamente su tutti i social dell'edicola del Sud. Grazie a tutti.